Senti, sono belli i sogni, ma le cose importanti accadono da svegli, perché così le realizziamo. Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il viaggio dell'eroe, il viaggio dell'anima. Decidere di fare un film di fantascienza o un fantasy è sempre un grande interrogativo per un produttore e soprattutto per un regista. Può risultare al tempo stesso una delle scelte più facili, perché garantisce ampi margini di manovra e concede più di una libertà, ma può anche rivelarsi una delle imprese più complicate, perché il buon esito del film di fantascienza dipende da pochi fattori, apparentemente semplici, ma assai rischiosi da gestire. La trama deve essere avvincente e al tempo stesso realistica, cioè avere dei collegamenti con la realtà che sperimentiamo oggi, altrimenti spoce in un qualcosa di troppo distante o inverosimile che nessuno spettatore sarà in grado di apprezzare. Per quanto detto in altri miei contributi, se non avviene la magia di immedesimarci nell'eroe della vicenda, come spettatori perdiamo interesse in ciò che vediamo. I personaggi quindi devono essere credibili, al tempo stesso devono esserci novità importanti, altrimenti nel guardarlo ripercorreremo la nostra memoria alla ricerca del... e questo dove l'ho già visto. Ultimo ma non ultimo, il messaggio deve superare le barriere del tempo in cui si svolge la vicenda ed essere il più possibile valido per qualsiasi epoca. Più che per altri generi quindi, il rischio di cadere nel ridicolo, nel patetico, è maggiormente presente con la fantascienza e il fantasy. Il film di cui scelgo di parlare oggi è Dune, pellicola famosissima per tanti motivi e soprattutto perché è legata alla celebrata saga omonima scritta da Frank Herbert nel 1965. La produzione affidata a David Lynch nel 1984 fu un vero e proprio fiasco in termini di ritorno dell'investimento. Eppure lo stesso film ebbe un clamoroso successo con l'on video negli anni successivi, tanto da recuperare la perdita iniziale. Per me questo è un segno del fatto che forse nel 1984 il pubblico non era ancora pronto a recepire e apprezzare una storia tanto complessa, tanto cerebrale e al tempo stesso intrisa di religiosità. Ma già dieci anni dopo qualcosa era cambiato nel profondo delle nostre coscienze. Se in molti andavamo alla ricerca delle videocassette da goderci alla tv seduti comodamente sul divano di casa. Nel 2021 il regista Dennis Villeneuve decise di ripresentare la saga di Dune realizzando il primo atto. Il secondo atto non è ancora uscito nelle sale cinematografiche, ma la prima parte è stata premiata con ben sei premi Oscar. Ci sono differenze sostanziali tra le due opere e non poteva essere diversamente, visto che le separano quasi 40 anni. Quella diretta dall'allora giovanissimo David Lynch nel 1984 è un film di poco più di due ore, dove si percepisce lo sforzo immane di concentrare una storia molto lunga in un tempo sufficientemente breve da essere consumato da un pubblico generalista e poco avvezzo alla fantascienza, sebbene nello stesso periodo Guerra Stellare accogliesse l'entusiasmo di tutti. Ci sono molti difetti in questa produzione e non solo a mio avviso, perché lo stesso Lynch è stato estremamente critico con il suo lavoro. Tuttavia il film dà ampio spazio e giusta enfasi a far capire allo spettatore che dietro a una vicenda di guerre spaziali e di sporche macchinazioni politiche si cela la vera trama che è un intrigo operato da anime spiritualmente votate al lato oscuro e che fallisce per opera di un qualcosa di più grande di loro, la venuta di una specie di messia. La stoffa di Lynch è innegabile e si vede già in quest'opera giovanile l'amore per il mondo onirico e per la chiaroveggenza, che saranno poi un tema costante delle sue produzioni successive. Il film però corre precipitosamente nel finale, come a far intendere che si è indugiato troppo prima e il tempo è finito e forse che anche i soldi sono finiti. Insomma, che bisogna concludere in fretta? Villeneuve invece non cade nell'errore del suo famoso predecessore ed espande le due ore di narrazione di quello in una produzione che presumo si attesterà in cinque ore complessive tra parte 1 e parte 2. Non ne posso parlare più di tanto perché se non erro la seconda parte uscirà durante le feste di Natale. Ciò che mi è apparso però chiaro guardando solo la prima parte è che questo regista ha cercato di essere il più fedele possibile al romanzo e quindi anche molto molto didascalico, dando a ogni vicenda e a ogni particolare la stessa enfasi. Di quale dune parlare in questo mio video dunque? Per quanto appena detto ci sono grandissime differenze tra i due film e non mi riferisco agli effetti speciali perché sarebbe un confronto ingiusto, quanto all'atmosfera creata dai due registi. Come già anticipato Villeneuve è più fedele al romanzo, più realistico. Lynch è più sbrigativo, ma forse pone maggiore attenzione sui punti chiave della narrazione. Pertanto la mia decisione è di prendere il primo in ordine di tempo come riferimento, anche se coglierò spunti pure dall'ultimo, cercando di trarre il meglio tra i due per quanto mi sarà possibile. La trama non è delle più semplici. In un futuro molto lontano, circa 8 mila anni da oggi, l'impero estende la sua influenza su spazi sterminati di universo, tra i quali il pianeta Arrakis, chiamato Dune per il fatto che è un globo completamente coperto di sabbia e, seppur provvisto di un'atmosfera respirabile, invivibile per la mancanza di acqua e per il clima torrido tipico di un deserto. Ciò che rende però questo pianeta preziosissimo per tutto l'universo è la presenza della spezia, chiamata anche melange. È una sostanza psichedelica, forse della stessa famiglia dell'LSD, che si estrae dalle sabbie e che coprono il pianeta e che conferisce il dono della premonizione e amplifica le capacità mentali. È grazie a questa proprietà che è possibile attivare il viaggio interstellare, cioè i salti in iperspazio che altrimenti renderebbero impossibile percorrere distanze siderali in così poco tempo. Da poco i navigatori annulleranno lo spazio. Il gas prodotto dal melange ci permetterà di viaggiare senza muoverci. Per questo motivo quel pianeta è da sempre nell'interesse dell'impero come sito di primaria importanza. Avere la responsabilità del governo di Arrakis è un altissimo onore, fonte di grandi guadagni, ma anche un'enorme responsabilità. A rendere complicate le attività di estrazione sono i nativi del luogo, i Fremen, seguaci di una religione che ritiene la spezia sacra e quindi inviolabile ed estrarla per meri scopi commerciali è considerato un sacrilegio al quale si oppongono con tutti i mezzi possibili. Ma la minaccia più grossa è rappresentata dalla presenza di enormi vermi delle sabbie, creature scatenate da vibrazioni del terreno molto lievi anche dal semplice passeggiare di un uomo sulla sabbia e pronte a inghiottire qualunque cosa capiti a tiro delle loro bocche immense. Un giorno l'imperatore Padishasha Dan IV toglie il controllo del pianeta Arrakis alla crudele casata degli Arconnen per darlo alla nobile famiglia degli Atreides, molto popolare nel resto dell'imperium e per questo politicamente pericolosa. L'azione cela in realtà una trappola perché l'imperatore teme che il duca Leto Atreides possa insidiare il suo potere con la sua popolarità. Pur intuendo che l'offerta di Arrakis faccia parte di una macchinazione ordita dall'imperatore che spinga gli Arconnen a combattere per riavere il controllo del pianeta ed eliminarlo, il duca Leto obbedisce per onore e lascia la sua casa natale sul pianeta Kaladan portando con sé la famiglia e il resto dei suoi uomini. Il figlio del duca, Paul, è un giovane la cui preparazione culturale, fisica e psichica è stata curata dai migliori precettori, è intelligente, curioso e dotato di tenui poteri di chiaroveggenza probabilmente ereditati dalla madre. Sovente Paul ha visioni ricorrenti su una ragazza fremene o su un dialogo con lei e in generale i suoi sogni hanno tratti premonitori. La madre di Paul, Lady Jessica, concubina del duca, è una strega dell'ordine delle Bene Gesserit, una sorta di suore chiaroveggenti e riconosce il potenziale dei sogni del figlio che sta addestrando a usare il potere della voce. Ciò attira l'attenzione di molti, in particolare di Gaius Elem Moiam, veridica Bene Gesserit dell'imperatore, una madre superiore di quell'ordine monastico. Hai creduto davvero di poter generare il Quisazza de Rakh, l'essere supremo dell'universo? Come hai potuto osare? Paul viene così testato dalla veridica a mezzo di una terribile prova di resistenza al dolore e dimostra di essere degno di ereditare il potere come le loro profezie avevano predetto. Infatti le Bene Gesserit da secoli stavano incrociando linee di sangue per creare il Quisazza de Rakh, l'eletto, unico uomo in grado di usare i loro poteri tipicamente femminili a un livello mai visto e cambiare così l'universo. La veridica rimane estremamente sorpresa dalle capacità di resistere al dolore da parte del ragazzo, e comincia ad accarezzare l'idea che lui sia proprio chi stavano aspettando. Per il santo Ward, nessuna femmina ha mai potuto sopportare tanto. Che sia veramente lui può darsi, ma riusciremo ad averlo sotto il nostro controllo. Dimmi delle acque del tuo pianeta, Usul. Intanto il Duca Leto prende il controllo del pianeta lasciato in condizioni pietose e con molte trappole sparse qua e là dagli Arkonen, non certo una genia che brilla per lealtà e altruismo. Dal primo insediamento degli Atreides a Palazzo, alcuni Fremen che vi lavorano come servitù riconoscono Impol l'eletto che hanno profetizzato da secoli. Infatti lui sembra conoscere in modo innato usi e costumi della loro gente. Ma non c'è tempo per approfondire la questione. Gli Arkonen sferrano il loro piano di riconquista aiutati segretamente dall'imperatore, che offre alcuni dei suoi migliori battaglioni per combattere contro gli Atreides, e avvalendosi del tradimento del dottor Yue, apparentemente un fedelissimo del Duca. Durante la notte, anche se il suo fine ultimo è vendicarsi proprio degli Arkonen, il dottor Yue disattiva gli scudi e gli allarmi della fortezza, rendendo così facile l'invasione e la vittoria degli Arkonen che riquistano il pianeta. Il barone uccide Yue e il Duca Leto, ma Paul e Jessica si liberano con i poteri della voce e fuggono nel deserto. Il nipote del barone, Rabban, riprende il controllo di Arrakis e dà la caccia ai due fuggitivi, ma il giovane Atreides ha ormai visioni sempre più chiare del futuro, grazie anche all'assunzione quotidiana della spezia. Tu lo sapevi che la spezia mi avrebbe cambiato, ma grazie ai tuoi insegnamenti sta ampliando la mia conoscenza. Adesso vedo, adesso riesco a vedere. Allora è lui. Tu porti mia sorella nel tuo ventre. Sa tutto. E appare Efraim che incontra nel suo cammino come colui che stanno tendendo dalle profezie. Una volta superata una prova di coraggio e maturità, Paul viene definitivamente accolto dalla loro gente e gli vengono insegnati i rudimenti per sopravvivere nel pianeta e soprattutto per cavalcare i giganteschi vermi delle sabbie che in realtà vivono in simbiosi con i nativi. I Fremen hanno atteso a lungo la venuta di un messia che dopo secoli di persecuzioni li guidi in una sanguinosa guerra santa definita proprio dall'autore stesso una jihad, alla conquista del pianeta e di tutto l'impero. Dato che come ben sanno l'imperatore, la gilda dei mercanti e gli Arcon, chi controlla la spezia controlla l'universo. Paul, sempre più consapevole di essere l'eletto che si aspettavano, insegna loro a costruire e usare i moduli estraneanti, armi letali attivate con l'uso sapiente della voce. In seguito i Fremen guidati da Paul dilagano su tutto il pianeta e sconfiggono ripetutamente le truppe Arcon, che in vano cercano di proteggere le trivelle di estrazione e i trasporti di spezia. Sconfitta dopo sconfitta, gli Arcon non sono più in grado di garantire la produzione della protezione, prestigiosa droga e ciò richiede l'intervento diretto dell'esercito imperiale, guidato dallo stesso imperatore, che raggiunge Arrakis con l'intento di riportare l'ordine e uccidere Paul. Nella battaglia finale, Paul e i Fremen lanciano un attacco contro gli invasori, cavalcando i vermi delle sabbia e brandendo le loro armi sonore, i guerrieri Fremen li sconfiggono. Una volta vinto in un duello mortale, l'ultimo campione degli Arcon, peraltro interpretato da un giovane Sting nel film di Lynch, Paul dimostra i suoi nuovi poteri, adempiendo la profezia dei Fremen e facendo cadere la pioggia su Arrakis dopo decine di migliaia di anni. Sua sorella Alia, nata con poteri già amplissimi per una bambina di pochi anni, lo dichiara il Quisaz Adera, ovvero il messia atteso. Ho riassunto al massimo la trama, tuttavia credo che ormai siate ben allenati a scorgere la struttura del viaggio dell'eroe, che è presente anche in questo racconto. Il nostro eroe è Paul, figlio del Duca, inizia la sua avventura nel mondo noto, che è il suo pianeta natale, ma viene poi scaraventato in un mondo ignoto, pieno di pericoli, intrighi e misteri. L'aiuto sovrannaturale, cioè l'evento scatenante, è l'editto dell'imperatore, che consegna alla Casa Treyres il controllo del pianeta Arrakis. Il guardiano della soglia è il confronto con la veridica Bene Gesserit. Che siamo nel mondo magico, non vi è mai dubbio in questo film, più che in altri di pari generi. Il confronto con guerre stellari viene naturale, per ovvi motivi, e in entrambi c'è la presenza della magia, rappresentata in un caso dall'ordine degli Jedi, e nell'altro da questa potente sorellanza delle Bene Gesserit, più inquietante e assai meno orientata positivamente di quanto siano i Jedi nella saga di George Lucas. Superato il guardiano della soglia con molto dolore, al giovane eroe si affiancano come aiutanti la madre, alcuni suoi collaboratori che si alternano durante la narrazione, sua sorella e tutto il popolo dei Femen, vermi inchiusi. Il mentor invece non è ben presente. Per un brevissimo momento è la madre a svolgere nel compito e si percepisce meglio nel film di Bill Neve, come si può vedere in questa clip. Grazie. Se la vuoi, obbligami tu. Usa la voce. Dammi l'acqua. Non al bicchiere, ordinalo a me. Dammi l'acqua. Tuttavia non possiamo dire di trovare una figura unica e così incisiva nella vita di Paul. Lo stesso padre, che svolge sicuramente un importante ruolo come l'autorità di riferimento, scompare quasi subito e senza lasciare un talismano al figlio, a meno di considerare come tale l'anello simbolo della casata che però non ha alcun significato particolare nella vicenda. Sono gli eventi a guidare inesorabilmente l'eroe incontro al suo destino. Sono le continue prove a forgiare il suo io autocosciente e fargli scoprire chi sia realmente, inclusi un tentativo di assassino fallito e un combattimento all'ultimo sangue in cui è costretto a infriggere la morte a uno sfidante. Anche la tentazione è praticamente assente e la notte buia dell'anima coincide con la morte del padre e con la caduta della casata per mano di Arconnen. La trasformazione avviene nel momento in cui prende piena consapevolezza di chi è, cavalca il verme e guida il suo nuovo popolo alla conquista del pianeta. La redenzione si completa con la sconfitta del campione degli Arconnen e il ritorno a casa è più un ritorno della casa, cioè la trasformazione del pianeta da deserto invivibile ad habitat rigoglioso di vita. Ma ciò che ha reso famoso il romanzo di Herbert non è il viaggio dell'eroe, che come credo di aver illustrato, non è neppure pienamente rispettato nei suoi canoni, soprattutto se cerchiamo di applicarlo all'intera saga e non solo a questa parte, e non è paragonabile per godimento a Guerre Stellari. Forse è proprio questo il motivo principale per cui il film non riscosse un grande successo, almeno inizialmente. Tuttavia, più di Guerre Stellari cominciò ad attrarre a sé un pubblico maggiormente maturo, non dal punto di vista culturale, quanto da quello animico-spirituale. Quindi, se possiamo definire Star Wars un fantastico prodotto nella sua piacevolezza e sempre ricco di spunti per meditare su alcuni insegnamenti, quali la forza, la benevolenza, l'amicizia e il coraggio, Dune è un cult movie destinato a piacere a molti meno spettatori, a indagatori dello spirito, più attenti a scorgere certi momenti di riflessione. Descrive un percorso iniziatico per Paul e per tutti noi che in Paul ci riconosciamo. E l'io incarnato, autocoscienza, che parte dal punto più basso, dalla massima separazione dalla fonte, per risalire, cioè per tornare alla casa del padre, e nel farlo acquisisce nuovi poteri e nuove caratteristiche. Questo anche se nella saga intera la vicenda non ha un finale positivo per come lo intendiamo normalmente. Si parte dalla conoscenza, quella che possiamo accumulare con il nostro caro e inseparabile mentale inferiore. E ora ricorda, il primo passo per evitare una trappola è di conoscerne l'esistenza. Vale come assunto spirituale anche nella nostra vita quotidiana. Negli ultimi tre anni abbiamo avuto maggiore contezza di come il sistema agisce, quali tipi di trame ordisce e quali trappole prepara per farci cadere. La caduta è l'addormentamento dell'anima, naturalmente, come ben simboleggia una matrix e altre pellicole. Se sappiamo che il sistema gestito dal principe del mondo dissemina a lungo il nostro percorso una quantità inesauribile di trappole, sicuramente siamo più attenti. Ne scoviamo alcune e in altre cadiamo. Ci alleniamo a scorgere di sempre più sofisticate fino a che il gioco ci appare chiaro. Ne ho parlato moltissimo nei miei video. Le pandemie e le soluzioni proposte per superarle, le crisi economico-sociali e le soluzioni proposte per risolverle, le guerre e le soluzioni proposte per porvi fine, i cambiamenti del clima e le soluzioni avanzate per scongiurarli. Sono le grandi trappole in cui siamo tentati continuamente al fine di farci cadere nella demenza del pensiero unico. Queste sono trappole globali, collettive. Poi ci sono quelle individuali, quelle che ci capitano più spesso nel quotidiano e nelle quali cadiamo e ricadiamo a causa dei vizi. Tutto il sistema lavora con lo scopo di attivare le frequenze più basse per farci agganciare da esse e fungere da nutrimento. Se le andiamo dietro, ci ritroviamo a essere guidati dai bisogni istintivi del corpo fisico, dalle emozioni del corpo emozionale e dai pensieri ricorrenti del corpo mentale che abbiamo preso quando siamo scesi in incarnazione ma che non siamo noi. Come ricorda Gurdjieff attraverso l'efficacissimo schema dell'anima nella carrozza. Ho già presentato in altro video questo schema di riferimento come anche quello seguente. È complesso, è un po' troppo cerebrare, lo riconosco, ma ci aiuta a capire se pur con uno strumento il cui utilizzo siamo invitati a ridimensionare la nostra mente. In questo schema, tratto dal libro Power vs Force di David Hawking, l'autore ci spiega con dettaglio minuzioso che a ogni visione di Dio e della vita corrisponde un set di emozioni e di processi mentali molto diversi fra loro, alcuni distruttivi di se stesso e dei propri simili, altri costruttivi, carichi di amore, perdono, gioia e pace. Chi opera quotidianamente per inculcarci i messaggi di paura, odio, indignazione, assenza di speranza, attraverso continue minacce alla nostra sopravvivenza, vuole ottenere come risultato la nostra afflizione, disperazione, apatia e rinuncia. Allora, come dice Tufira Ouatt al giovane Paul, il primo passo di evitare una trappola è di conoscere l'esistenza. Ma è solo il primo. Senza cambiamenti qualcosa si addormenta dentro di noi e raramente si sveglia. Il dormiente deve svegliarsi. Comprendere che c'è una trappola ma non fare nulla equivale ad addormentarsi. Il riferimento è chiaro, è l'anima di addormentarsi. Quindi chi è il dormiente a cui il Duca Leto fa riferimento se non l'anima, la coscienza incarnata che deve prendere consapevolezza di se stessa e agire? Il passo è fondamentale, così devo espanderlo. Per farlo mi avvalgo di uno scritto di Rudolf Steiner, il Vangelo di Giovanni. Dalla prima conferenza lui ci fa osservare che quando ognuno di noi guarda nella sua interiorità a un certo punto arriva a dire a se stesso ciò che mi si presenta nella mia interiorità è quello che chiamo io. L'io si differenzia da tutte le altre cose del mondo esteriore. A ogni altro oggetto del mondo possiamo assegnare un nome dall'esterno. Come esempio ci dice che possiamo dire tavolo al tavolo o orologio all'orologio ma non potrà mai risuonare il nome io al nostro vecchio quando si riferisce a noi stessi perché l'io deve venire pronunciato dall'interiorità. Quando consideriamo l'uomo nella sua vita possiamo dire che lo vediamo dapprima quale bambino come guarda inesperto gli oggetti del mondo esteriore come impara poi gradatamente a capire le cose e a poco a poco a diventare giudizioso cresce di intelletto e di volontà aumenta la sua forza e la sua energia. Vi sono però uomini che non crescono soltanto in questo modo. Vi sono sempre stati uomini che si elevano a uno sviluppo superiore al normale e si arrivano a trovare per così dire un secondo io capace di dire tu al primo io come quest'ultimo dice tu al proprio corpo fisico e al mondo esteriore in un certo senso capace di guardare dall'alto al primo io. Questo rappresenta un ideale per l'anima umana e si presenta come una realtà per chi segue le indicazioni degli indagatori dello spirito e per chi dice a se stesso l'io che finora ho conosciuto prende parte a tutto il mondo esteriore esso è effimero come il mondo esterno. In me però è latente un secondo io del quale gli uomini non sono consapevoli ma del quale possono divenire coscienti. Esso è altrettanto collegato con ciò che è imperituro come il primo io collegato con ciò che è transitorio e perituro. Con la rinascita questo io superiore può guardare nel mondo spirituale come l'io inferiore per mezzo dei sensi occhi, orecchie e così via può guardare al mondo sensibile. Ciò che si chiama risveglio, rinascita, iniziazione continua Steiner è il più grande evento dell'anima umana perché ha una connessione con l'evento del Cristo Gesù. Voglio sapere di mio padre Paul Ascolta la reverenda madre e fa quello che ti dirà di fare Allora tu tu vieni qui sta usando la voce no è abbastanza forte però sorprendente vieni qui Nel film si insiste affinché il dormiente non induggi nel conosciuto, nel mondo noto e si lanci in quello ignoto condizione indispensabile per risvegliarsi Metti la mano destra in questa scatola Che c'è nella scatola? Molto dolore Fermo Metti la mano nella scatola Questo è forse il momento più potente del film L'eroe comprende che se si lascia prendere dalla paura precipiterà nell'addormentamento della sua anima Ti sto puntando al collo il Gom Jabbar Questo ago velenoso uccide solo gli animali Vorreste dire che il figlio del duca è un animale? Diciamo che secondo me potresti essere umano Notate come lo scrittore Frank Herbert fedelmente ripreso da Lynch e non altrettanto bene da Villeneuve attraverso la veridica sottolinea il fatto che se lui si lascia prendere dalla paura morirà per il veleno di un ago che uccide solo gli animali Il tuo spirito può essere abbastanza potente da controllare il tuo istinto Il tuo istinto sarà quello di ritrarre la mano dalla scatola Se lo farai morirai Ciò che differenzia l'uomo dall'animale è il controllo degli istinti l'io autocosciente che tiene a bada le emozioni inferiori e che l'animale non ha perché ha solo una coscienza collettiva e non una individuale incarnata Avvertirai una sensazione strana Adesso la sensazione diventerà bruciore Calore Ancora più calore Ancora più calore Silenzio 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 Chi cade vittima della paura è più vicino un animale umanoide che un uomo evoluto Mi spiace scendere ancor più nel dettaglio Ma voglio che sia chiaro quale tipo di trabocchetti il sistema ha sempre messo in atto Ma recentemente è stato più evidente E di quali tipi ne metterà da qui in avanti Chi è caduto vittima del sistema e ha accettato le sue angherie per paura di perdere il lavoro o la reputazione o solo la libertà di farsi una pizza al ristorante è come se avesse ritirato la mano da quella scatola Impazzisco! Basta! Ora basta! Togli pure la mano dalla scatola e guardala Giovane uomo Guardala Ciò non significa che gli errori non sono ammessi nella nostra vita qui sulla Terra Anzi il concetto stesso di errore va rivisto completamente Sono tutte esperienze Si può recuperare uno scivolone, chiamiamolo così, un passo indietro Ma prima bisogna capire di essere scivolati e poi lavorare per accrescere la propria consapevolezza e non ricadere di nuovo Come è spiegato nei tre video che ho dedicato al Signore degli Anelli presumibilmente siamo alla fine di un ciclo e ciò comporterà un'inevitabile scissione dell'umanità in due rami evolutivi che viaggeranno a velocità diverse fra loro Naturalmente questo discorso non si applica ai più perché la gran parte dell'umanità ha bisogno di fare l'esperienza di retrocedere nuovamente una coscienza collettiva all'io di branco Forzarli a qualcosa di diverso sarebbe una violenza l'opposto dell'operare per il loro bene perché li costringerebbe a vivere a un livello che non possono gestire Questi vengono definiti i freddi nell'Apocalisse di Giovanni Poi ci sono i caldi cioè quelli già ben avviati nel viaggio di ritorno alla casa del Valere E in mezzo ci sono i tiepidi coloro che pur essendo pronti al viaggio che si rendono conto che c'è una sfida e un percorso di crescita esitano, hanno paura Soprattutto a questi è rivolto l'appello Non devono indugiare e dubitare come ci ricorda l'Apocalisse di Giovanni perché con la consapevolezza raggiunta per loro sì che scivolare indietro sarà motivo di sofferenza Apocalisse di Giovanni 3, 14, 17 All'angelo della Chiesa che è alla Odicea scrivi Così parla l'Amen il testimone degno di fede e veritiero il principio della creazione di Dio Conosco le tue opere Tu non sei né freddo né caldo Magari tu fossi freddo o caldo Ma poiché sei tiepido non sei cioè né freddo né caldo sto per vomitarti dalla mia bocca L'immagine fortissima indica un fatto scientifico-spirituale Se l'uomo non lavora sulla Terra per trasformare il suo corpo astrale che è la sede delle sue emozioni inferiori viene vomitato cioè non progredisce dalla situazione attuale e anzi deve regredire perché non c'è più una situazione idonea ad accoglierlo Abbiamo un ioto cosciente incarnato che ha il compito di lavorare sui corpi inferiori fisico, eterico e astrale a cominciare da quest'ultimo Questo è il vero concetto di evoluzione come ci ricorda sempre Rudolf Steiner nella seconda conferenza di suo libro più famoso e per certi aspetti il primo da leggere La saggezza dei Rosa Croce Il primo progresso dell'evoluzione umana consiste dunque nel lavoro sul proprio corpo astrale e il risultato è il dominio interiore acquistato dall'uomo su certe caratteristiche originarie del corpo astrale L'uomo civile odierno cede ad alcuni suoi istinti ma non ad altri Chiamiamo sé spirituale la parte del corpo astrale che l'uomo ha ridotto in potere del suo io Un'altra denominazione è quella di Manas Che significa lavorare sul corpo astrale? Significa allenarsi a non cedere agli istinti agli impulsi e alle brame Il protagonista di Dune anzitutto lavora sul corpo astrale con il suo io non cedendo la paura non abbandonandosi all'impulso di ritrarre la mano Dove sono i miei sentimenti? Non provo niente per nessuno In questo secondo momento il nostro eroe sta sperimentando il distacco e ne è destabilizzato quasi prova un senso di colpa anche se apparentemente ancora non del tutto consapevole sta imparando che la vita va al di là dell'esperienza terrena che niente muore veramente se non degli involucri utili alla sperimentazione ma che non corrispondono a niente di nostro Con la morte non perdiamo nulla della nostra vera essenza niente che valga la pena trattenere e ci apriamo a una nuova fase del ciclo Ciò che portiamo con noi sono le esperienze e i sentimenti superiori attivati da tale esperienza sono quelli che vanno a formare il corpo causale che ci accompagnerà nelle nostre future incarnazioni anche se non ce ne ricorderemo sempre dalla seconda conferenza nella saggezza di Rosa Croce Nel suo ulteriore sviluppo l'uomo impara a lavorare con le forze del suo io non soltanto sul corpo astrale ma anche su quello eterico si rifletta a quanto si sapeva otto anni alle moltissime cose che si sono imparate da allora ognuno ha preso una grande quantità di concetti che lo determinano a non più seguire ciecamente i suoi impulsi e le sue passioni ma se qualcuno collerico da bambino esamina fino a che punto la collera sia stata vinta troverà che qualche volta essa si manifesta ancora Allo stesso modo chi avrà una memoria debole solo poco sarà riuscito a migliorarla altrettanto poco l'uomo modifica le sue tendenze caratteristiche la forza o la debolezza del suo carattere Se si è trasformata una memoria debole in una forte la collera in dolcezza un temperamento malinconico in uno sereno si è fatto assai più che non avendo imparato moltissime nozioni Questa trasformazione è una sorgente di intime forze occulte l'espressione dell'attività dell'io sul corpo eterico invece che sul solo corpo astrale La parte del corpo eterico che l'io ha potuto trasformare prende il nome di spirito vitale Nella letteratura teosofica lo spirito vitale è chiamato buddhi e la sua sostanza è la parte di corpo eterico trasformata dall'io Completiamo la descrizione che Rudolf Steiner fa dell'io che lavora sui tre corpi A mio parere Herbert lo conosceva perché non posso pensare al caso quando rilevo il parallelo tra il grande antroposfo tedesco e lo scrittura statunitense di chiare origini germaniche Quando l'io è diventato tanto forte da trasformare non soltanto il corpo eterico ma anche quello fisico il corpo più denso della natura umana quello le cui forze arrivano sino al più alto dei mondi allora si dice che l'uomo educa in sé il suo elemento più elevato l'atma o uomo spirituale vero e proprio Si incomincia la trasformazione del corpo fisico modificando il processo respiratorio infatti atma significa respiro Con questa modificazione si cambia la costituzione del sangue che agisce sul corpo fisico e si esercita così un'azione fin sul più alto dei mondi In realtà né il romanzo di Herbert né il film di Lynch mettono in evidenza questo ultimo aspetto cosicché dobbiamo pensare che quanto rappresentato sia un'anima in crescita ma che non ha ancora raggiunto lo status di maestro Ricordiamo che il titolo di maestro non si può dare a Bamber Maestro è colui che ha superato le cinque iniziazioni Nascita, Battesimo, Trasfigurazione, Crocifissione e Ressurrezione I maestri hanno completato la trasformazione dei loro corpi inferiori grazie al lavoro dell'Io per questo tra le altre cose possono reincarnarsi se lo ritengono necessario con lo stesso corpo avuto nelle esperienze precedenti Alcune curiosità prima di avviarci alla conclusione Quel genere di dettagli e osservazioni che ci fanno intuire una certa capacità di farsi canale da parte dell'autore della saga di Dune Alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una forma solita Sempre dalla saggezza di Rosa Croce, tredicesima conferenza Steiner ci dice che mentre l'uomo oggi può avere con i suoi pensieri una pallida influenza sul corpo fisico come ad esempio far affluire o defluire il sangue dalle sue guance a seguito di un'emozione in precedenza, cioè nel periodo atlantico e in quelli precedenti egli si trovava interamente sotto l'influenza di un mondo di immagini espressione del mondo spirituale che gli permettevano di lavorare molto più intensamente la trasformazione del suo organismo anche perché il corpo era più plastico, i minerali, quindi anche il sistema osseo, erano assenti Nella nostra epoca materiale questa trasformazione è la più lenta possibile ma in avvenire ritornerà più rapida allora l'uomo avrà maggiore influenza sulla sua corporità fisica diventando sempre più plastico, vale a dire eliminando le parti dure l'uomo va incontro al suo avvenire l'uomo trasformerà soprattutto il sistema della procreazione la laringe umana già oggi si prepara a diventare il futuro organo della riproduzione oggi essa può solo produrre vibrazioni sonore può soltanto trasmettere all'aria il contenuto delle parole in modo che le onde corrispondano alle parole stesse più avanti alla laringe non si farà strada soltanto alla parola con il suo ritmo ma l'uomo potrà illuminare e compenetrare la parola con la materia stessa mentre oggi la parola diviene solamente onda sonora in avvenire l'intimo essere dell'uomo la sua stessa immagine verrà emessa dalla laringe come oggi avviene per la parola quindi l'uomo del futuro sarà in una forma più spiritualizzata di ciò che è attualmente e il futuro organo di procreazione sarà la laringe non avremo più bisogno di un organo esterno che penetrando feconderà un altro essere umano ma sarà l'essere umano stesso che troverà in sé la forza di autofecondarsi e così generare una nuova vita sembra incredibile ma ben guardare via un'evidente affinità morfologica tra questo futuro organo della procreazione e quello attraverso il quale attualmente passano i nascitori così come nella vagina ci sono le grandi labbra esterne nella laringe troviamo le corde vocali false mentre alle piccole labbra che sono più interne corrispondono le corde vocali vere entrambi questi due organi sono dotati di elasticità cioè la capacità di variare l'apertura della fessura andando oltre e osservando l'apparato respiratorio notiamo che è formato dai due polmoni e dalla trachea per poi giungere attraverso la laringe alle corde vocali nell'apparato riproduttivo femminile si hanno due ovaie che confluiscono nell'utero e poi giungono così all'apertura verso l'esterno da questa osservazione ci rendiamo conto che i due apparati non sono proprio speculari nell'apparato respiratorio manca un organo cavo analogo all'utero però questo potrebbe essere in perfetto accordo con quanto ci dice Steiner i futuri neonati non verranno portati in grembo come accade al giorno d'oggi bensì nel momento in cui verranno concepiti saranno anche idonei alla vita esterna e quindi potranno essere generati la spezia è paragonabile al peyote o mescalito o ai funghi allucinogeni che hanno proprietà molto simili all'LSD penso che qui sia chiaro il riferimento a tali sostanze psicotropiche e psichedeliche che hanno più di un effetto collaterale ma una chiara apertura alla sperimentazione di un altro mondo che sia chiaro non è nostro obiettivo raggiungere quella sperimentazione attraverso l'uso di sostanze chimiche il nostro obiettivo è sviluppare l'io a un punto tale che la chiaroveggenza sarà disponibile come conseguenza della crescita spirituale ma non possiamo dimenticare che nel periodo in cui Herbert scriveva i suoi romanzi la diffusione dell'LSD era piuttosto ampia guardiamo invece attentamente la simbologia della scena seguente se tu sarai una reverenda madre sarà solo Shaiulud a giudicarlo l'acqua della vita che succederà alla figlia che porto dentro dovrò farlo anch'io un giorno quel fumo sembra incenso come suggerisce anche una specie di sacerdote che agita una scatola alla sinistra l'incenso ha una grande valenza simbolica è un segno di preghiera un segno di ordine e pulizia di sacrificio di onore e rispetto quando si parla di incenso il pensiero corre al dono dei magi ma la scrittura è ricca di molti altri riferimenti nell'Apocalisse l'incenso simboleggia l'adorazione Apocalisse 8, 3, 4 Poi venne un altro angelo e si fermò all'altare reggendo un incensiere d'oro gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi bruciandoli sull'altare d'oro posto davanti al trono e dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme con le preghiere dei santi Attualmente nei riti delle esecue o della consacrazione di una nuova chiesa si prevede esplicitamente l'utilizzo dell'incenso è un segno di onore e rispetto che sale a Dio in connessione con il sacrificio della vita della persona il profumo dell'incenso è segno di quel sacrificio di lode che è la vita del giusto spiega il rito delle esecue ma in questo momento del film l'eroe non è morto anzi si appresta a concentrare su di sé amplissimi poteri del mondo materiale insieme con la madre quindi sospetto che qui il regista lo abbia usato per il secondo significato cioè quando viene consacrata una nuova chiesa infatti credo che proprio ciò stia avvenendo di fronte ai nostri occhi un potere di tipo laico rappresentato dall'imperatore della gila dei mercanti verrà vinto e sostituito da uno di tipo religioso il film si interromperà di qui a poco e non lascia capire che cosa accadrà in seguito ma la saga di Dune è assai più lunga e contempla numerosi capitoli inclusa la defenestrazione di Paul per opera di una congiura ordita dalla madre e la successiva scesa al trono dei figli non so se il messaggio finale dello scrittore sia di rifuggire qualsiasi forma di potere assolutistico o comunque qualsiasi autorità organizzata ma sicuramente è un ottimo spunto per noi indagatori dello spirito se avete visto il film avrete sicuramente notato che tanto più misera e vuota è la figura dell'imperatore quanto fastoso a livello disturbante è il suo palazzo denso di simbolismi quanto più ricca e piena è la figura di Paul tanto più spogli sono gli ambienti in cui vive ma c'è anche dell'altro la legge è la scienza definitiva è una scritta che possiamo leggere sopra la porta della sala dell'imperatore ricorda tanto la scritta presente nei nostri tribunali la legge è uguale per tutti sappiamo ai me che ciò non è fatto vero tanto nel sistema giudiziario attuale quanto in quello del film infatti non c'è persona più corrotta, egoica e votata alla distruzione dei propri avversari con subdole macchinazioni dell'imperatore che ipocritamente si freggia di quella scritta all'ingresso della sala delle cerimonie del suo fastosissimo palazzo in uno dei libri successivi viene esplicitamente affermato da Herbert la legge sceglie sempre da che parte stare sulla base del potere esecutivo la moralità e le sottigliezze legali hanno poco a che fare con ciò quando la vera domanda è chi ha il potere? il vecchio impero non ha altro che disprezzo per la legge ma le cose non vanno tanto meglio su Arrakis dove i Fremen praticano uno stato di diritto tremendamente serio una sorta di legge del taglione infine il nuovo impero teocratico di Paul oscillerà tra questi due poli parrebbe che uno dei messaggi fondamentali sia che qualsiasi governo insediatosi per legge o per colpo di stato o per altro modo sia nella migliore delle ipotesi inutile e nella peggiore pericoloso ciò diviene evidente nel pensiero di Paul nei libri successivi ma altro non è se non il pensiero dell'autore Frank Herbert infatti osservò subito avevo questa teoria secondo cui i supereroi erano disastrosi per gli esseri umani lui pensa chiaramente che la burocrazia e la legge possono essere altrettanto disastrose per noi così come l'ipotesi di un salvatore che ci tolga d'impaccio dei problemi Herbert mostra disprezzo per qualsiasi aspetto del governo sia quello burocratico sia quello esecutivo sia quello giudiziario dov'è il succo del problema? a modo suo pur non esprimendolo manifestamente credo che Herbert arrivi alla sola conclusione possibile per chi decide di fare ricerca spirituale ed evoluzione spirituale non possiamo pensare di cambiare il mondo agendo esternamente senza lavorare sulla nostra personalità il che non significa non fare nulla se non pregare o meditare ma significa che l'azione esteriore è conseguenza del lavoro interiore e non viceversa esattamente come prima ho letto di Steiner che parla dell'io che modifica i corpi inferiori in particolare non si può sperare che arrivi qualcuno a risolvere le cose per noi non si può sperare in un messia che scacci i romani come credevano Giuda Iscariota e gli altri zelotti che pure in un primo momento accolsero la venuta di Gesù non si può credere di risolvere i problemi attuali eleggendo un nuovo rappresentante politico come per un certo momento abbiamo creduto in molti affidandoci all'apparente nuovo che nuovo non era o a un salvatore d'oltreoceano che rimetta le cose a posto non si può pensare che la situazione di crisi in cui siamo ormai profondamente entrati si risolva magicamente con la venuta di una qualche entità superevoluta dalle Pleiade o Andromeda o Sirio che a terri sono una vicella spaziale e ci liberi dai dementi che decidono le guerre che mettono le tasse che inquinano l'ambiente promuovendo l'utilizzo di sostanze nocive o cose del genere anzi semmai arriveranno dovremo guardarci molto attentamente da tali personaggi perché è molto più probabile che rappresenti l'ennesima trappola di addormentamento insomma non possiamo demandare ad altri il lavoro che dobbiamo fare noi non c'è modo di conseguire una crescita sfuggendo questo mondo l'unico lavoro che è fondamentale e prioritario fare lo ripeto è interiore solo cambiando dal nostro interno possiamo vedere i cambiamenti all'esterno l'esterno funge da specchio per ciò che abbiamo dentro di risolto e c'è un solo modo per lavorare sperimentare aprendoci con fede assoluta e senso di meraviglia verso l'imprevedibile il mistero della vita non è un problema da risolvere ma una realtà da sperimentare un processo che non si può comprendere arrestandolo dobbiamo seguire il flusso del processo unirci a esso fluire con esso per commentare ulteriormente questa frase è sufficiente richiamare la parabola Matteo 25 14 30 avverrà come di un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni a uno diede cinque talenti a un altro due a un altro uno a ciascuno secondo la sua capacità e partì colui che aveva ricevuto cinque talenti andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque così anche quello che ne aveva ricevuti due ne guadagnò altri due colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro colui che aveva ricevuto cinque talenti ne presentò altri cinque dicendo signore mi hai consegnato cinque talenti ecco ne ho guadagnati altri cinque bene servo buone e fedele gli disse il suo padrone sei stato fedele nel poco ti darò autorità su molto prendi parte alla gioia del tuo padrone presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti disse signore mi hai consegnato due talenti vedi ne ho guadagnati altri due bene servo buone e fedele gli rispose il padrone sei stato fedele nel poco ti darò autorità su molto prendi parte alla gioia del tuo padrone venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento disse signore so che sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso per paura andai a nascondere il tuo talento sotto terra ecco qui il tuo il padrone gli rispose servo malvagio infingardo sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso avreste dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha dieci talenti perché a chiunque sarà dato e sarà nell'abbondanza ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha e il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre la sarà pianto estridore di denti la vita non va compresa ma sperimentata con fede e apertura all'imprevedibile e non trovo immagine più bella di quella che ci ha donato Richard Buck come suggerimento per affrontarla ti domanderanno come si attraversa la vita rispondi come un abisso su di una corda tesa in bellezza con cautela oscillando non so se sono riuscito e se mai riuscirò a far nascere in chi mi guarda l'interesse per la lettura dei libri di Rudolf Steiner così come quella di tanti altri autori che ispirano le mie meditazioni e il mio lavoro interiore e quindi propongo all'interno dei miei video tuttavia vi invito a farlo i messaggi e gli insegnamenti di uomini che sono chiaramente a un livello di coscienza superiore non devono essere ricevuti attraverso mediatori a partire da me quindi ribadisco che l'intento con cui produco i miei video è stimolare chi li vede ad accostarsi direttamente a tali scritti e tali opere e non ad affidarsi esclusivamente ai piccoli stratti che alcuni divulgatori come me in questo momento possono prendere qua e là non so neppure se vi ho stimolati alla visione di Dune la seconda parte del film di Villeneuve uscirà a breve ma comprendo che non è un film per tutti sicuramente non quel tipo di film che dà ristoro tutt'altro quanto piuttosto uno che scuote profondamente il nostro sentire la nostra interiorità anche con immagini e concetti crudeli spietati quindi non proprio il film di Natale si mi è concessa questa battuta spero tuttavia di avervi fornito una traccia per una lettura diversa e qualche spunto di riflessione in più per oggi è tutto un caro saluto e appare e appare Padre Padre il dormiente si è esvegliato di avervi fornito di avervi fornito di avervi fornito di avervi fornito di avervi fornito